Ciao a tutti ragazzi, qua per la vostra sfortuna CX Murray e benvenuti in questo nuovissimo video di Call of Duty Modern Warfare 3 Minchia, oh bella zio, di nuovo Modern Warfare 3, ma quando è che accarichi i video di Battlefield? Eh lo so ragazzi, molti di voi probabilmente non si sarebbero aspettati un altro video su Mv3 E chi di voi mi siete qui su Facebook probabilmente invece saprà che stavo registrando in questi giorni appunto dei gameplay per Mv3 Infatti questa partita è una partita abbastanza pragmatica perché non è la prima partita che mi sia capitata Anche perché diciamo non ho avuto poco tempo per registrare Ma ho scelto questa partita proprio perché ho concluso con una leggera positività di ratio Ma questa partita rappresenta proprio la partita media, la mia partita media su Mv3 Quindi diciamo che è un po' un fatto di simbolismo ecco Comunque ho scelto appunto Mv3 anche questa settimana perché voglio parlarvi oggi appunto di Mv3 Perché secondo me Mv3 non è a deluso le aspettative di molte persone E perché soprattutto molti di voi probabilmente avranno visto il post che ho caricato su Facebook Nel quale ero stato abbastanza drammatico Avevo scritto che Mv3 erano i 60 euro più bruciati della mia vita E là diciamo che era anche un piccolo sfogo perché dopo tante partite Dopo vari rage quit, parolacce, tirate contro il cielo Avevo appunto scritto questo post di fretta e furia Ma oggi diciamo con più calma e più razionalità Volevo spiegarvi perché secondo me Mv3 non è il gioco che dovrebbe essere E che cosa hanno sbagliato i sviluppatori soprattutto Beh vorrei partire intanto raccontandomi qual è il mio rapporto con Mv3 Perché secondo me il mio rapporto con Mv3 si può facilmente eguagliare Al rapporto che ha un drogato con la sua dose Sa che gli fa male ma per qualche strana ragione ritorna sempre a drogarsi Infatti Mv3 so che nuocerà la mia salute So che mi farà risquittare So che mi farà imprecare contro tutte e tutti Ma per qualche strana ragione Non so per il movimento delle stelle Per il karma Boh non so che cosa Ritorno sempre a giocare pur sapendo che mi farà del male Però questa forma di vasochismo ha fatto sì Che io fossi in grado di darvi il mio finale parere su Mv3 E vi dicessi quale secondo me è il reale problema L'unico reale problema di Mv3 Ma voi vi siete mai immaginati cosa si saranno detti gli sviluppatori di Mv3 Prima di creare il gioco Che palle oh Che dici lo facciamo su Mv3? Sì dai mi sto annoiando Ma lo facciamo discreto come gli altri anni? No quest'anno io vorrei fare una casa a mare Fottiamoci più soldi possibili Sì forse hai ragione E come fare a fottersi più soldi possibili? Ma semplicemente cercando di raggiungere il più numero di persone possibili Il pubblico più grande possibile Ossia sia diciamo gli amanti della saga I veterani di COD Ma anche le persone che magari I casualoni Quelli che si avvicinano per la prima volta a un FPS O addirittura a un Call of Duty E per far questo appunto Gli sviluppatori hanno cercato di creare un gioco abbastanza bilanciato Un gioco che avrebbe potuto dare Una bella esperienza di gioco Sia a coloro i quali Stessero cercando ovviamente Un ottimo finale della trilogia dei Modern Warfare Con un finale col botto Sia coloro i quali che magari Incuriositi dal titolo Magari consigliato il titolo da un amico Avrebbero comprato per la prima volta un COD Un FPS E che quindi diciamo si sarebbero trovati un po' spiazzati Se il gioco fosse stato abbastanza diciamo complesso Quindi secondo me Io voglio pensare Voglio pensarla positivo Anche se una parte di me Crede che tutta questa scelta sia stata fatta Al solo fine di business Ossia più noi facciamo il gioco accessibile a tutti Più pubblico abbiamo Più milioni ci incassiamo C'è una parte di me che la pensa a positivo Credo che gli sviluppatori In fondo in fondo Magari in un'altra vita Abbiano voluto creare un gioco Che divertisse un po' tutti L'idea magari potrebbe anche essere buona Ma sicuramente è stata sviluppata È stata sviluppata in maniera pessima E questo diciamo Credo possa servire da lezione Nella vita non si possono accontentare tutti È impossibile mettere d'accordo tutte le persone Anche perché se questo fosse possibile Il mondo sarebbe un mondo migliore Non ci sarebbero guerre Oddio mi sento tanto Gandhi in questo momento Ma è come diciamo per ritornare a un esempio più Più attuale E meno moralistico È come se Berlusconi Potesse contemporaneamente andare a Mignotte E portare avanti un paese in crisi come l'Italia Credo sia abbastanza ovvio Che questa sia una cosa impossibile Quindi il problema principale di Mv3 Secondo me è proprio questo Accontentare tutti Accontentare tutti ragazzi è impossibile E credo che avrebbero fatto meglio Quelli degli sviluppatori di Mv3 A creare un gioco Diciamo sulla falsa riga di Mv2 Sulla scena di Mv2 Non è sicuramente adatto O sulla scena di Battlefield 3 Non è adatto a tutti Ma un finale col botto Che sicuramente avrebbe incentivato Molte più persone a comprarlo Anche perché così facendo I giocatori che magari Nel prossimo Call of Duty Sicuramente non sarà sviluppato Alla stessa casa che ha sviluppato Mv3 Ma magari tra due Call of Duty Probabilmente ritornerà Alla stessa casa di Mv3 E quindi diciamo Saranno ancora incentivati I gamer che l'hanno presa Nel laddove non batte il sole Con Mv3 A comprare di nuovo Un Call of Duty prodotto Alla stessa casa di Mv3 Direi che questo è tutto ragazzi Queste erano le mie impressioni su Mv3 Diciamo il mio giudizio finale Quindi non chiedetemi più Cosa ne penso di Mv3 Perché in questo video Credo di essere stato abbastanza soddisfacente E credo di aver detto Tutto quello che Avrei potuto dire Su Mv3 E diciamo in generale Cosa ne penso di questo gioco A questo punto ragazzi Quello che mi importa di più È sapere il vostro feedback Datemi un feedback Un commento E un bel voto Scrivete nei commenti Cosa ne pensate invece voi di Mv3 Quali sono i suoi problemi E secondo voi qual è Cos'è che si potrebbe fare Per migliorare questo gioco Perché secondo me alla fine Mv3 Non è proprio un gioco da buttare nel cesso Con qualche modifica Con un bel po' di patch Magari Tipo una trentina di patch Potremmo anche portare Questo gioco A un capolavoro Perché no? Quindi lasciate un bel voto Lasciatemi un bel commento E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Ciao